Ciao a tutti i videoamatori e tutte le videoamatrici di Senza Fissa di Mora, benvenuti in questa nuova live. Ringrazio subitissimo Roberto Quaglia per essere qua dopo tanto tempo, grazie Roberto. Ciao, grazie e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Una buona sera, un buongiorno, una buona notte in base a chi ci guarda e che ci guarderà in futuro. Io Roberto con te volevo fare una carrellata da veri complottisti, in verità che poi noi i complotti non li facciamo, quindi non siamo noi i complottisti, mi sa che qua sono altri i complottisti, quelli che complottano alle spalle. E gli avvenimenti di Donald Trump sono veramente, come si può dire, un esempio enorme di complotto che se fosse morto Donald Trump, se fosse stato ucciso, ci troveremo probabilmente davanti a un altro JFK, è un'altra narrazione completamente allucinata, allucinante, fatta di buchi, fatta di cose nascoste, insabbiamenti, fatta di una narrazione ufficiale che in verità ha delle falle continue ovunque. Mi piaceva prima di introdurre l'argomento, proprio di andare un po' nel dettaglio, avere una tua, diciamo, opinione a caldo, quello che hai pensato quando hai visto questo video, i video che sono girati, quando hai letto qualche giornale che non dicesse che era un incidente, che era inciampato, un giornale, diciamo, normale, quando ti sei reso conto che era un attentato, che cosa hai pensato, cos'è stato il tuo primo pensiero? All'inizio io in effetti l'ho sentito quasi subito quando è successo e tutti i media americani, non tutti, la maggior parte, dicevano, ci sono stati dei rumori e poi lui è caduto, si è rialzato insanguinato, continuavano a sottorappresentare quello che era accaduto come un incidente, diciamo, che lui è inciampato, veramente, no? E questo dava già, quello dava già... Il Washington Post, io alcuni li ho raccolti, scusi che ti intorno un po' sui, il Washington Post diceva che disordini fanno cadere Trump. Il New York Times, caos al comizio. Se il caos al comizio è, diciamo, emblematico, ecco, no? Cioè, è come se, appunto, i suoi, come se i suoi fans fossero stati intemperanti che hanno fatto del caos. No, è interessante perché, poi l'ho analizzata un pochettino, questa reazione farneticante dei media, secondo me, denota un'impreparazione, perché evidentemente non erano preparati a gestire questa informazione e allora hanno improvvisato, deve essere arrivata una parola d'ordine di sottorappresentare quello che è accaduto e lì vediamo la scarsa competenza di questi qui, perché, cioè, comunque, stiamo parlando di titoli che alla fine finiranno, passeranno la storia per la loro infamia, perché non è che cancellano quei titoli. Adesso tutti sanno quello che è successo, però quei titoli rimangono e sono lì a testimonianza del fatto che hanno voluto sottorappresentare, se non addirittura nascondere, in certi casi, quello che era accaduto. Diciamo, o forse hanno creduto nella possibilità di poterlo nascondere, quindi lo hanno, perché non si capisce altrimenti perché uscire con dei titoli del genere caos. Per dodici ore hanno continuato a negare l'evidenza, cioè a deformare la realtà, potremmo dire, a influenzare la percezione, come se la percezione fosse più importante della realtà. Di solito lo è, però il tema è che a questo punto non potevano sfuggire alla realtà, e non potevano sfuggire alla realtà per un semplice motivo, perché il proiettile non ha né centrato Trump, né lo ha mancato. E io ipotizzo che i media avessero già pronte, e qui si vede che ho dei grossi sospetti, avessero già pronte le due narrazioni, pronte quella per l'opzione che lui fosse stato centrato e ucciso, e quella nel caso che invece lo avessero mancato. Invece è successa una via di mezzo che non era prevedibile, perché è assolutamente probabile, succede solo nei film, il fatto che uno muova la testa all'ultimo secondo e la pallotola lo sfiori. Questo succede solo nei film, lo vediamo solo nei film. Nel mondo reale non si era mai visto, almeno diciamo su un proscenio importante. Ecco, poi è chiaro che in una guerra dove c'è centinaia di migliaia di casi disparatori, ci sta anche quello. Ma nei casi di politici di solito o vengono centrati o non vengono sfiorati. Nel suo caso invece c'è stata questa opzione. È una ricostruzione 3D di quello che è successo in tempo reale, non so se la vediamo, adesso fammi vedere. Sì, sì, la stiamo vedendo. È incredibile, no? Quello che è successo è proprio incredibile. Lui si è girato, tra l'altro, per guardare un monitor dove in quel momento veniva proiettato un grafico dell'immigrazione. Quindi l'immigrazione l'ha salvato, gli ha salvato la vita praticamente. Questa è una bella ironia del destino, salvato dall'immigrazione illeviata. Esattamente, salvato dalla sua propaganda, perché alla fine lui è uno che fa molta propaganda. Abusa, utilizza questa motività, una propaganda di pancia, per colpire appunto le pance del suo elettorato. Proprio in quel momento lui si gira verso il grafico e si salva la vita. E questo vuole anche dire che chiunque abbia sparato era un professionista, perché per riuscire a centrarlo da una notevole distanza, insomma, non era un principiante. Questa è una tesi interessante, secondo me, che va valutata, cioè va un po' approfondita, perché nella teoria del complotto, nelle teorie del complotto che si sono montate a posteriori, una tra le più diffuse, soprattutto nella disinformazione, che però questa volta è a carico dei media mainstream, perché c'è stato un capovolgimento, che poi ci arriviamo magari, perché fino a poco tempo fa ci raccontavano che i russi combattevano con le pale, che Putin era malato terminale, che l'Ucraina ha vinto la guerra quattro o cinque volte, gli stessi adesso invece sono dei perfetti complottisti e ci spiegano che è stato un autoattentato. Trump se l'è fatto da solo, quindi, in teoria, da quello che io trago come conclusione, praticamente si è fatto sparare da un cecchino da 140 metri, più o meno, su un tetto, per farsi fare un piercing all'orecchia, praticamente. Una roba che non si può sentire. Esatto, io penso che questa fosse la narrazione che avevano preparato per il caso che il colpo lo avesse mancato. E allora, senza l'evidenza di una ferita, avrebbero probabilmente potuto convincere un grosso pubblico, soprattutto il pubblico che non ama Donald Trump, del fatto che lui se l'era fatto da solo. Praticamente copiano a sproposito certe espressioni che noi in passato, a proposito, abbiamo sviluppato. È proprio una proporzione indebita di un lessico, di un linguaggio che quando era, diciamo, coerente con la realtà, quindi quando noi denunciavamo appunto l'11 settembre che se lo sono fatto da solo e cose del genere, che hanno creato tutta una serie di semantemi che loro additavano come paranoie complottiste o peggio, adesso hanno rubato lo stesso lessico, no? Per appunto una narrazione completamente farneticante. Attenzione, non sarebbe stata farneticante se il proiettel avesse completamente mancato il bersaglio, perché allora, soprattutto per chi non amava Trump, era una bellissima storia a cui credere, no? E non potevi dimostrare, diciamo, diversamente, nel senso che tolte le prove. Invece, poi se invece lo avessero colpito, cambiava tutto, perché comunque cambiava anche la politica, cambiava tutto, probabilmente avremmo avuto anche forse della guerra civile negli Stati Uniti, perché a questo punto siamo già abbastanza vicini. Hollywood ha fatto il trailer della guerra civile, nel film Civil War, uscito quattro mesi fa. Di solito quando Hollywood esce fuori con un film, serve a preparare il pubblico per qualcosa che si verificherà molte volte, infatti abbiamo visto gli eventi poi seguire il trailer, per esempio, ricordiamo uno dei più clamorosi, il film Pearl Harbor, fatto, mi sembra uscito a maggio o comunque nella primavera o prima estate del 2001, che raccontava di un'America attaccata a sorprese, eccetera, eccetera, e poi poco dopo l'11 settembre, che subito Bush, il presidente, chiamò un nuovo Pearl Harbor, no? Quindi quello era uno dei casi, potremmo fare centinaia, io ne ho fatti tanti nel mio libro, appunto, Il fondamentalismo hollywoodista, e questa volta sembrava la stessa cosa, Civil War, che peraltro ho commentato in un video recentemente, proprio un video di analisi di, diciamo, di propaganda nei film, e quindi dicevo, adesso questo sembra un trailer di una guerra civile, lo avessero centrato, avremmo avuto la guerra civile, ecco, no? Non l'hanno centrato, quindi la narrazione che era pronta per il fatto che fosse morto è stata gettata alle ortiche, e la narrazione per il fatto che l'avessero mancata non serviva più. Nonostante questo alcuni l'hanno usata rendendosi ridicolo, perché è chiaro che sostenere che lui si sia fatto sparare all'orecchio da 140 metri... Da 150 metri, sì, è la sua pezzuola, cioè mi metto qui di profilo, intanto mi fai... Tipini, no? Altro che Guglielmo Tell, questo qui è, diciamo... Esattamente. E poi troviamo anche un cecchino che è disposto dopo a farsi trucidare istantaneamente, perché nella scenografia ci vuole anche quello che poi muore dopo cinque secondi, no? Cioè, è chiaro, è chiarissimo. Sì, sì, è facilissimo trovare appunto un cecchino che vuole farsi... Ammazzare in cinque secondi... Esatto, no? Ha vissuto cinque secondi lui più o meno, dopo quello che ha fatto. Questi sono i dati ufficiali, sto parlando di cose ufficiali, non mi sto inventando nulla. La teoria, quindi, dell'autoattentato, alla fine, io quello che vedo, io la vedo come un damage control. Per me è una forma mediatica di controllo dei danni. Cioè, questo avvenimento è talmente tanto potente come narrazione, no? Come si dice? L'umanizzazione del nemico non deve fare parte della narrazione. Fino adesso Trump è stato disumanizzato, come è stato fatto per Putin, per tante altre persone. E in quel modo lì tutta quella propaganda violenta nei suoi confronti che abbiamo visto dalle copertine di Der Spiegel col dito alzato, ne abbiamo viste di tutti i colori, ne abbiamo viste di tutti i colori, da paragonarlo a Hitler, nei grandi giornali questo è successo, attaccato su tutti i fronti. Il damage control serve, secondo me, a controllare i danni. Si sono accorti che questa cosa a livello delle elezioni di novembre ha delle conseguenze cioè, chiare, lampanti. Cioè, adesso, se prima era, diciamo, dato vincente solo dai complottisti e lo davano per perdente nei confronti di Biden, adesso darlo per perdente insomma, diventa veramente complicato. E l'unica modo, uno dei modi che si possono usare per controllare i danni alla propaganda, diciamo, quella più diffusa, è quello di inventarsi l'autotentato e dargli la colpa a lui, di dare la colpa. E, secondo me, un'altra narrazione, poi magari te la chiedo dopo, intanto volevo sapere se la tua opinione su questa cosa può essere condivisibile. io direi che più che un piano è una reazione, diciamo, istintiva e isterica, cioè, questi qui hanno usato una narrazione che era pronta per un caso inappropriatamente, quindi di fatto era completamente inefficiente, si sono resi ridicoli, hanno rafforzato la causa di Trump, anzi, perché oltre a essere stato colpito, viene anche insultato per il fatto di esserselo presumibilmente fatto da solo. Infatti, è stata abbandonata abbastanza in fretta, però oggi ho visto un'altra informazione, è quella di damage control di secondo livello, che è quella del fatto che c'è di mezzo l'Iran, poi dopo nell'articolo spiegano che in realtà non è collegato a questo cecchino, però in generale gli iraniani volevano ammazzarlo, cioè, perché è una storia che non c'entra niente, ma serve a confondere le idee in testa alla gente, iniziare a creare delle associazioni mentali tra attentato a Trump, Iran, attentato a Trump, Iran, poi come detto sono delle osservazioni che fanno che poi nell'articolino smentiscono dicendo però in effetti non c'è collegamento con questo fatto, in generale forse in futuro in un'altra occasione avrebbero voluto, però leggi i titoli. Sono voci di corridoio in fondo. Però il tema è che quello è un damage control di nuovo perché spostano l'attenzione su un nemico che ricorda il tempo in cui avevano accusato addirittura l'Iraq di Saddam Hussein di aver partecipato l'11 settembre. È chiaro che non c'era nessuna base non solo razionale ma neanche narrativa, cioè loro praticamente usavano questi termini a casaccio associandoli e poi da un'indagine appunto demoscopica che avevano fatto, un sondaggio quelle cose lì, avevano scoperto che una maggioranza degli italiani che era convinta che Saddam Hussein avesse a che fare con l'11 settembre, ma nessuno l'aveva mai detto in maniera chiara perché era un argomento sostenibile. Si creavano associazioni, associazioni impressioniste, cioè non è che nel dettaglio poi ti dicevano però bastavano i titoli Saddam Hussein, 11 settembre, Saddam Hussein, Al Qaeda, poi dopo in realtà non c'era trippa per gatti, se leggeva, c'era niente, però l'associazione veniva creata e alla fine il grosso della popolazione credeva a questa associazione. Adesso forse stanno cercando di fare la stessa cosa, credono delle associazioni che servono anche a distogliere l'attenzione da chi possa essere stato ad avere fatto questo attentato perché è chiaro che c'è la tesi del solito invasato solitario, però questo ormai ci crede sempre meno gente. Insomma... Questa è la più speculata in assoluto, credo che oramai non c'è attentato in cui non si dica che c'è un uomo solo che organizza il tutto. Dall'11 settembre che si dava la colpa a Bin Laden nella grotta di aver organizzato tutto da una grotta in Afghanistan, poi c'è Erlie Hebdo, mi ricordo i due gemelli che avrebbero organizzato tutto, cioè si sta parlando di cose complessissime dove ci vuole servizi segreti, ci vogliono decine di persone militari con una formazione, dei comandos che entrano dentro quello di Charlie Hebdo per me fu veramente il più come si dice in francese ettonante, più veramente sconvolgente perché continuavano a dire che erano due persone uscite dalle ballie parigine che avevano organizzato un comando super organizzato che si vede che non ha sbagliato né un movimento nulla con persone sul tetto quell'altro che raccoglieva la macchina rubata, cioè tutto fatto alla perfezione sarebbero due persone che poi sono state arrestate perché hanno provato a rubare un'auto in un concessionario e non ci sono riusciti, è un po' la storia dell'11 settembre di quelli che non sapevano guidare i Cessna che però erano perfettamente in grado di guidare un Boeing a 900 km orari volo radente centrare una torre in mezzo a New York alle 8 da mattina. C'è questa dicotomia, questa distonia collettiva nel raccontare che è l'uomo solo al comando e qui sarebbe stato questo personaggio di vent'anni giovanissimo di cui nessuno conosce nulla, nessuno sa nulla, dove l'FBI ho visto una dichiarazione di ieri che ha fatto ridere un sacco perché non riusciva a entrare nel telefonino, cioè nella CNN che dichiara che non riescono a entrare nel telefono a uno smartphone del ragazzo, questi che sono in grado di spiare i presidenti di tutto il mondo che sono in grado di fare qualsiasi cosa però lì non ce l'hanno fatta, non ce la facevano a entrare nel telefono di questo ventenne che poi è stato ritrovato chiaramente con delle esplosive in auto visto che hanno trovato un sacco di cose, ci mancava il passaporto Sto pensando la stessa cosa. Ci mancava il passaporto lasciato su sedile. Sì, col manuale di come fare l'attentato perché ricordiamo che i presunti dirottatori degli aerei dell'11 settembre poi fu trovato nella loro auto parcheggiata nei presse dell'aeroporto fu trovato appunto un manuale su come guidare un Boeing nel senso che questi ancora lì che si ripassano te ne immagini che si ripassano il libro vedi che qua si ripassano il libro mentre vanno a dirottare un Boeing è chiaro che è una realtà impressionista come dicevamo se guardi nel dettaglio non c'è assolutamente nulla di reale realistico però alla fine dà un'impressione per via della reitirazione costante per mesi e anni per cui alla fine si stampa nei cervelli bypassando tutte le analisi critiche razionali che le persone non fanno perché distrattamente brucano informazioni in questo caso menzogne dai media mentre in realtà fanno dell'altro cioè non è che uno guarda la televisione poi prende appunti poi analizza no guarda la televisione sente due cose gli si stampa nel cervello giorno dopo di nuovo poi di nuovo poi di nuovo alla fine lui magari stava mangiando mentre ascoltava l'altra volta era al gabinetto non so cioè però tutte queste cose poi finiscono per crearli a sua insaputa appunto un quadro mistificato della realtà ci si forma ci si forma davanti alla televisione non è un bias cognitivo alla fine quello dell'associazione di idee che uno poi si mangia tutta questa questa becchime fatto per per animali d'allevamento e alla fine si muore al macello come dei veri animali d'allevamento volevo arrivare alla seconda teoria che è quella diciamo più diffusa perché c'è una parte della seconda teoria che per me va un po' ampiata mi piaceva farlo con te e discuterne un po' che è quella dell'inside job innanzitutto gli Stati Uniti ci hanno abituato all'inside job ormai sappiamo praticamente non mi ricordo più attentato che non sia un inside job e quindi si può valutare come teoria diciamo dominante quella dell'inside job ma c'è una cosa che a me un po' mi dà fastidio non la voglio passare fargliela passare liscia che è quella della falla nel sistema e qui moltissimi parlano di falla nel sistema di sicurezza dicono perché è stato lasciato entrare hanno lasciato fare che è un po' quello che è anche successo con l'11 settembre moltissimi dicono hanno lasciato che i terroristi potessero prendere gli aerei hanno lasciato che li hanno lasciati formare addirittura si parlava di questo nelle scuole nessuno è intervenuto hanno fatto ore di volo insomma questa la falla nel sistema tu cosa ne pensi Roberto esiste la falla nel sistema? ma non esiste almeno non in questi casi quando esiste una falla c'è solo quella mentre e non iniziano esserci tutta una serie di fate discordanti che che appunto che con la falla non c'entrano niente quando noi abbiamo questo questo ragazzo che è stato sul tetto visto da tutti pare che fosse già sotto il mirino del cecchino che non ha fatto niente per vari minuti minuti sono lunghi in questi casi qua è già una cosa poco sostenibile e poi c'è una notizia data peraltro dalla CNN quindi non ci mettiamo niente che però poi scompariranno questa informazione perché a caldo un po' di stile di verità trapelano per sbaglio poi la censura interviene si evita la reiterazione della verità e queste cose scompaiono e c'è un c'è uno studio dell'università di beh adesso non mi ricordo quale comunque citata dalla CNN che che ha analizzato i suoni degli spari che si sono uditi e diciamo ha concluso che ci sono almeno tre armi diverse che hanno sparato e peraltro proprio durante l'attacco quindi in questo caso questo pone degli interrogativi che se ci fossero degli inquirenti seri dovrebbero risolvere ma anche per spiegarli in un modo diciamo non complottista mettiamola così ma lo devono spiegare invece probabilmente finirà tutto diciamo in una bolla di oblio perché se ci sono tre armi che hanno sparato adesso non so se è inclusa anche quella del cecchino cioè del cecchino diciamo della polizia è chiaro che dovrebbero essere almeno due gli attentatori che questo farebbe il paio con gli altri complotti di questo tipo a partire da JF Kennedy che c'era Lee Oswald che era lì a fare la bella figurina il capo respiratorio ma poi quelli che hanno sparato e hanno ucciso il presidente erano altri e in questo caso potremmo uso 2M il condizionale assistere a una situazione analoga a un reload dello stesso schema dove noi abbiamo il capo respiratorio allevato da qualche servizio a guardarlo in faccia non è che sembrasse una linge che in qualche modo viene poi come una sorta di manciuri un candidate mandato su quel tetto per fare un gesto eroico che in realtà consiste nel farsi ammazzare dal cecchino mentre da un'altra parte c'è il cecchino vero il professionista che esegue il suo lavoro questo schema per inciso è anche apparso in un film americano di qualche anno fa parecchi anni fa si chiamava Shooter e che raccontava appunto di questo cecchino professionista che viene mandato in un discorso mi sembra di un presidente proprio per proteggerlo quindi in quel caso era un po' diversa lui era lì a proteggerlo però poi fanno fuori il presidente e essenzialmente vogliono usare lui come capo respiratorio perché lui è lì con il fuji quindi se ricordo bene la trama quindi di fatto lo schema è sempre lo stesso e quindi direi che non abbia quello che ho visto e ho visto in rete una intervista della una piccola televisione locale della Pennsylvania non mi ricordo esattamente cosa si parlava di 26 minuti prima cioè lui è arrivato gli 26 minuti questo sarebbe salito sul tetto avrebbe misurato la distanza con uno strumento in quel momento lì viene avvicinato da un poliziotto insomma il poliziotto praticamente Crocs questo Thomas Crocs che si chiama così minaccia il poliziotto e il poliziotto si ritira praticamente se ne va lo lascia fare lascia fare lascia finire che lui salga sul tetto ci è salito due volte praticamente sul tetto una volta con un attrezzo per misurare le distanze e poi col fucile e questa è la versione che io ho letta sempre prendetela così com'è non è io non ho l'oro colato però per intenderci ci sono una decina di testimoni e di filmati ci sono almeno tre in rete che fanno vedere lui che sale prima sul tetto ce n'è una parte che fa vedere le persone che chiamano la polizia dicendogli guardate che là c'è un cecchino su quel tetto lì c'è un insieme di cose che cioè la falla la falla la falla non può esserci per caso cioè stiamo parlando del presidente un ex presidente degli Stati Uniti che ha una scorta ufficiale obbligatoria da parte del governo americano stiamo parlando di una persona che comunque Donald Trump voglio dire non è sicuramente tra i più amati è molto discutibile molto divisivo come persona cioè credo che chiunque potesse anche un pochettino premeditare che qualcosa poteva succedere per me questa non può essere incompetenza cioè questa è premeditazione cioè c'è un dolo cioè c'è qualcosa che non va nel sistema c'è una parte che deve essere per forza consensiente se il mito dell'incompetenza è un motivo ricorrente abbiamo menzionato che è stato usato l'11 settembre il mito dell'incompetenza quindi il mito del fallimento dei servizi di sicurezza il mito del fallimento dei militari attenzione tutti quelli che hanno fallito l'11 settembre i generali e via dicendo sono stati promossi cioè quindi fallire e poi venire promossi dovrebbe illustrare anche al più riottoso diciamo dei cittadini sai quelli che credono proprio a tutto quello che gli racconto in televisione che è chiaro che c'è qualcosa che non quadra tu non premi uno che ha fallito danneggiando mostruosamente la tua nazione o lo degradi o lo licenzi o lo arresti se c'è un dolo nel nel suo fallimento se lo promuovi vuol dire che ha effettuato effetti esattamente quello che doveva fare la stessa cosa è successa in molti casi anche per esempio agli ufficiali che fecero si resero responsabili di per esempio dei fatti del G7 a Genova no G8 non so cos'era quello del 2001 promossi cioè quindi quando c'è una promozione vuol dire che non ci sono stati errori non ci sono state hanno eseguito degli ordini e vengono premiati per questo in questo caso ora sarà interessante vedere questi servizi che cosa però adesso c'è una differenza perché di solito questo è quello che succede quando l'attentato va a buon fine ma stavolta è andato male quindi non verranno premiati perché il tema è che è andato male per i complottisti cioè quelli che hanno fatto il complotto vero intendendo per tali quelli che hanno fatto il complotto cioè è andato male quindi sarà interessante vedere quello che succederà anche perché adesso ci sono dei soggetti dentro i servizi presumibilmente chiaramente se la nostra tesi fosse corretta che sanno troppo quindi e non solo e dall'altra parte hai un possibile futuro presidente degli Stati Uniti che magari potrebbe anche volere rendere alla pariglia quelli che hanno provato ad ammazzarlo visto che poi lui diventa il loro capo anche perché uno è già morto che era il testimone principale diciamo quello l'hanno seccato subito che di solito è sempre quello che muore nei film o nella realtà quello che fa commettere il crimine crepa o lo ammazzano un paio di giorni dopo o muore per un incidente o muore in carcere o muore sul colpo viene come in questo caso è la tesi comunque dominante questa che tu dici non è una una nostra diciamo che diciamo chiunque abbia un minimo 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 di senso critico e un po' di memoria storica perché bisogna anche pensare a quella chiaro che non può raggiungere a quella conclusione teniamo conto che nella storia degli Stati Uniti un presidente su tre cioè il 30% praticamente dei presidenti sono stati o sparati e colpiti oppure ci hanno provato quindi o hanno provato ad ammazzarli o ci sono riusciti stiamo parlando di uno su tre come roulette russa non è male in roulette russa c'è un proiettile su otto su nove non so qui c'è un proiettile su tre tu vai lì e c'è una possibilità su tre che ti facciano fuori o che ci proveni alla faccia dei regimi del Medio Oriente delle democrazie quando dicono ah Putin deve uccidere tutti i suoi cosi questa narrazione mitologica che trasforma in gamba di legno il cattivo di Topolino che non è più neanche una riduzione a Hitlerum come si faceva una volta adesso è una riduzione a banda bassotti a gamba di legno a macchia nera questi cattivi fumettistici però poi quando vai a vedere i fatti vedi che la maggior parte degli omicidi politici sono tutti nell'occidente collettivo e la lista è lunghissima adesso stiamo parlando di questo caso perché è il più eclatante visibile e Trump tutto sommato è stato presidente degli Stati Uniti e si presta a ridiventarlo ma non parliamo dei banchieri che cadevano dai dei gradacieli dai tetti l'ex capo della banca europea che ha creato l'euro trovato morto nella piscina la sua piscina che galleggiava come in un film di James Bond cioè queste sono tutte storie che poi tu leggi il giornale leggi l'articolo c'è scritto all'anno ha probabilmente avuto un malore adesso direbbero avuto un malore improvviso però il problema è che è il caldo l'anidride carbonica il cambiamento climatico per il riscaldamento climatico morto all'ennesimo banchiere ecco non mettiamola così per cui ci sono in questo genere collettivo più omicidi politici di quelli che esistono nel mondo che qui col nostro egocentrismo proiettando i nostri difetti chiamiamo appunto autocrazie o altri insulti quindi adesso ne abbiamo avuto l'ennesima messa in scena è un po' anche un simbolo per me del degrado dell'Occidente questa cosa anche perché è come un riflesso non un effetto miroire una cosa speculare della crisi dell'Occidente dei valori delle cose non ci sono neanche più come posso dire gli attentatori di una volta non c'è più non c'è più una poesia una ricercatezza un modo di architettare le cose tu che sei uno scrittore di fantastica da un punto di vista narrativo come scrittore ti posso dire che è peggiorata tantissimo la qualità dell'opera perché ci sono state epoche dure anche violente anche brutte dove però almeno c'era il dato della realtà cioè succedevano brutte cose ma le brutte cose venivano chiamate con il loro nome e si sapeva che era quello che succedeva quindi non era una magari una società perfetta anzi magari una società corrotta sporca delinquenziale però sapevano di essere quello che erano e adesso invece viviamo in una società che oltre che avere queste queste terribilità con questo con questo livello dietro le quinte dove appunto succedono queste tutti questi omicidi per non parlare poi dei ricatti delle minacce del del modo in cui evidentemente quelli che hanno il potere controllano e tenendo per i cosiddetti i i politicanti che poi devono prendere decisioni che vanno contro l'interesse dei loro popoli quindi ci sono anche però tutto questo nell'occidente collettivo ormai è diventato diciamo è dissociato dalla dalla coscienza appunto di quello che si faccia cioè si vive in un mondo che è quello dei media come c'era un filosofo francese Baudrillard che negli anni 90 aveva scritto il libro che la televisione ha ucciso la realtà ma noi ora siamo allo stadio successivo dove la rappresentazione della giustizia ha ucciso la giustizia la rappresentazione del mondo reale ha ucciso il mondo reale così tutti vivono la rappresentazione della politica ha ucciso la politica non c'è più la politica perché vediamo la rappresentazione in televisione bella questa questa osservazione in qualsiasi ambito vediamo che la rappresentazione ha sostituito il no umino la cosa in sé e questo Sarkozy fece una citazione ai tempi credo fosse un'intervista non mi ricordo dove era in un'occasione abbastanza importante che disse proprio la percezione della realtà è più importante della realtà assolutamente ed è verissimo che viviamo in un'epoca di alterazione che finisce per uccidere il valore per cui questa io mi occupo di programmazione neurolinguistica è una mia passione e adesso la chiamo deprogrammazione neurolinguistica perché c'è questa inversione di valori totale è diventata quasi monotona l'inversione dei valori della società vediamo una società valori invertiti e la politica è vero proprio un esempio lampante siamo in un'era post politica non c'è più una destra una sinistra non c'è più i valori si sono invertiti si sono mescolati c'è chi ha preso un pezzo di un altro quello ha preso l'altro pezzo la sinistra che combatte per dei valori della destra il sovranismo che viene visto come ideologia di estrema destra quando in teoria dovrebbe essere scontato trasversale dovrebbe essere un valore di dire no adesso è tutto tutto capovolto tutto è vero è come dire il sovranismo vuol dire essere sovrani di qualcosa per esempio sovrani del tuo corpo se tu sei sovrano del tuo corpo vai a cagare al cesso se non sei sovrano del tuo corpo ti caghi addosso scusate l'espressione però il problema è che non è di destra o di sinistra essere sovrani del tuo corpo cioè semplicemente però sei una minaccia per la società esatto non è che esatto cioè però sono state create delle narrazioni dove certe parole sono state infettate da delle valenze negative di scomunica sociale per cui se tu le usi diventi cattivo nella fattispecie di destra che non vuol dire nulla a parte il fatto che sei cattivo anzi di estrema destra perché non esiste più la destra ormai esiste solo l'estrema destra perché non essendo più un epiteto politico è diventato un insulto e a questo punto per essere veramente un insulto ha bisogno della parola estrema che comunica comunque ansia a quelli che diciamo ovviamente ascoltano questi nuovi mantra quindi c'è uno scrittore francese che seguo molto si chiama Idris Abercan che lui utilizza il termine estremo occidente per descrivere la nostra città utilizzando la programmazione che è legata all'estremizzazione del dialogo perché poi si parla in Francia adesso ha vinto l'estrema sinistra che non si capisce neanche veramente ma chi ma dove l'estrema sinistra ma magari avesse vinto l'estrema sinistra e invece ovviamente fumo negli occhi però lui utilizza questo termine che mi è piaciuto moltissimo l'estrema occidente che è quello della Nato del neoconservatore della globalizzazione che è quello di cui stiamo parlando anche questa sera e che in parte forse dico forse uno come Donald Trump non è così allineato con l'idea diffusa dell'estremo occidente forse questo è anche uno dei problemi si è bello l'espressione estremo occidente si potrebbe anche dire l'estremo occidente collettivo perché ormai tutto il mondo a parte noi almeno quello che conta ci considera l'occidente collettivo hanno iniziato i russi ma adesso seguono gli altri perché è un organismo collettivo perché di fatto non c'è più due teste in questo mostro c'è una sola testa che dà gli ordini e tutto l'occidente si muove all'unisono come se esso avesse lo stesso interesse quando molto spesso l'interesse diciamo il ruolo in commedia appunto di certe parti di questo mostro è quello di venire sacrificati guardi l'Ucraina che viene sacrificata gli ucraini cioè cos'è che ci hanno guadagnato in tutta questa faccenda se nel 2014 non si fossero fatti diciamo dirottare nel loro corso adesso sarebbero un paese intero sarebbero il doppio della popolazione forse anche di più ci sarebbe più di mezzo milione di persone e di famiglie senza lutti e avrebbero un futuro e così via però diciamo sono entrata a far parte con il famoso colpo di stato dell'occidente collettivo contenti di far parte di una grande famiglia come nelle opere di Disney dove tutti contenti a topolinea diciamo vivono benissimo perché è un fumettone e poi invece non sapevano di essere la parte sacrificale l'appendice che doveva avere rimossa dal corpo perché veniva bene per chi governava il corpo e il prodotto di scarto dell'organismo che per inciso è un ruolo che adesso si vuole sbolognare a tutto il resto d'Europa che continua ad andare ipnotizzata in trans verso un macello possibilmente nucleare contro la Russia quindi stiamo parlando di suicidio puro ma lo fa senza un bricelo di consapevolezza proprio perché è un elemento senza testa di un corpo che decide quali parti di sé sacrificare per la sua convenienza solo che insomma per quello che diciamo questa espressione di eccedente collettivo è fondamentale proprio perché non esistono più distinzioni tra le parti almeno da un punto di vista di volontà e poi per inciso tu hai menzionato all'estrema sinistra c'è l'estrema destra in Italia il più popolare è la sinistra radicale per cui in quel caso potremmo emendarlo ulteriormente anche l'occidente collettivo radicale perché per rendere diciamo la pariglia sul piano semantico a questi manipolatori occhio per occhio dente per dente verissimo hanno una capacità al giorno d'oggi di inversione attraverso la propaganda che probabilmente non hanno mai avuto prima grazie ai social grazie a tutto l'informazione che arriva formando le menti delle persone in maniera totalmente inconsapevole per molti diciamo per altri invece totalmente consapevole e credo che sia doveroso da parte di chi almeno vede un pochettino questa questa narrazione di metterla almeno in discussione attraverso anche delle diciamo delle parti creando degli scenari immaginifici immaginari e uno degli scenari che mi piaceva trattare con te verso la conclusione è se il Trump fosse morto se fosse andato tra virgolette bene l'attentato per chiaramente la parte che vediamo che è anche maggioritaria perché ho letto tweet di tutte le persone di tutti gli schieramenti soprattutto della sinistra radicale che ci speravano diciamo hanno fatto senza neanche troppi veli da Saviano a altri senza fargli trova pubblicità insomma se Trump fosse morto come avrebbe cosa sarebbe successo secondo te così di primo a Kito a parte la possibile guerra civile che poi c'è già in gran parte perché 30.000 morti all'anno credo che ci siano negli Stati Uniti per arma da fuoco leggevo 30.000 morti all'anno sono una bella una città piccolina italiana che muore tutti gli anni sparata negli Stati Uniti ho letto 2024 prime 4 mesi del 2024 5 milioni e mezzo di armi vendute negli Stati Uniti sì comunque il tema è che questa guerra civile probabilmente avrebbe clissato qualsiasi altro tipo di qualsiasi altro tipo di fenomeno perché noi adesso potremmo anche chiedere qualcuno si chiederà ma che interesse avevano a creare una guerra civile perché insomma è casa loro e no non è casa loro questo è l'inganno perché quelli che stanno facendo i burattinai dei vari pupazzi che ci hanno in giro per il mondo a governare compreso appunto lo zombie che appunto governa gli Stati Uniti adesso che il giornalista Pepe Scobar chiama crash test dummy ma lo chiama da tre anni così crash test dummy crash test sono quelli che fanno con le automobili per spiaccicarsi contro il muro e vedere i danni e ci devono mettere dentro un pupazzo inanimato ecco e Pepe Scobar chiama appunto l'attuale zombie al governo che adesso ormai è diciamo riconosciutamente tale ma qualche anno fa era quasi un'eresia dire che Biden non fosse nel possesso pieno delle sue facoltà volevo farti sentire scusa che ti interrovo ancora volevo farti sentire questa perché è fantastica spero che l'audio si senta bene lo alza al massimo si è sentito si è sentito benissimo e in effetti è favoloso ecco diciamo ma è bello l'applauso tutti quelli che applaudono nonostante lui ha detto il presidente Putin comunque in un'altra occasione a un certo punto lui ha detto sono la prima donna di colore vicepresidente ora questo tu mi direi ma è impossibile non ci posso credere in realtà è facilissimo da spiegare perché il soggetto evidentemente non è più in grado di pensare e di solito legge dei come si dice un un gobbo il gobbo si mi mancava la parola legge un gobbo che gli dice cosa scrive un sacco di volte lui legge addirittura e allora ripeti l'ultima frase e poi lui nel senso leggi anche le note e adesso si editi per cui ripete anche quello perché non capisce evidentemente quello che legge in quel caso probabilmente gli hanno mandato il messaggio sbagliato diretto oppure lui l'ha letto per sbaglio che magari era un altro gobbo e leggeva il gobbo della presidenza di quella che veniva dopo esatto per cui alla fine si spiega tutto facilissimamente però in un'umanità che crede che quello sia un individuo che veramente abbia i bottoni sul coso nucleare che veramente incarni il mito dell'uomo al comando negli Stati Uniti che veramente incarni l'espressione della massima democrazia del mondo tutta fuffa il problema è che poi capire questo significa anche crollare nelle proprie convinzioni quindi alla fine la gente si racconta tante storie per diciamo rendersi indulgente rispetto a questi episodi clamorosi comunque è interessante che adesso con il confronto che hanno fatto con Trump dove praticamente lo hanno mandato al massacro cioè non c'era probabilmente altra via ma fa parte probabilmente di un processo di demolizione controllata di Biden stesso perché se fino al primo giorno cioè io che Biden avesse dei problemi mentali lo dicevamo già al tempo della sua prima candidatura cioè addirittura prima che vinse eletto questo qua già non c'è più tanto con la testa è chiaro che all'epoca si vedeva di meno però questo stato è stato negato per tutta una legislatura da questi che addirittura facevano da fact checker che dicevano no questa informazione fuori contesto il contesto mancante adesso si è visto quando poi lo hanno mandato al macero al macero esatto quindi adesso è diventato l'occupazione numero uno di tutto di prendere in giro il buffone del villaggio essenzialmente cioè lo scemo del villaggio che da un punto di vista così di analisi sociologica è abbastanza interessante ecco è un rito catartico per andare a vedere però se poi unisci questo alla possibile eliminazione dell'unico suo concorrente cioè che il gioco di Cé San Fé era proprio il piano perfetto credo ma infatti qui vediamo che Biden continuava a rifiutare di ritirarsi dalle prossime elezioni quando tutti dicevano ora io visto che lui non ha una volontà non penso che abbia una volontà propria quindi io credo sia capace neanche a controllare il suo corpo venendo a quello che tu venendo a quello che dicevamo prima è un problema di sovranità e a questo punto è probabile che gli venisse detto di non volersi ritirare può darsi che quelli che gli davano l'ordini sapevano che c'era in programma una sorpresina che avrebbe tolto di mezzo Trump e allora avremmo avuto c'era weekend con il morto legislatura con il morto cioè dopo averlo avuto come zombie il passo successivo sarebbe stato una riedizione del film appunto weekend con il morto però in chiave appunto holligodista insomma inedita mi mancano anche le parole proprio poi di fatto col fatto che appunto non è riuscito l'attentato infatti si chiama attentato proprio perché non sempre riesce e a questo punto è cambiato il problema di una carta in tavola e allora probabilmente ora verrà sostituito con qualcuno con cui disperatamente provare a arrestare un Trump che a questo punto diventa inarrestabile che poi non è detto che non faccia anche questo poi al fine comodo in generale una cosa che mi piaceva anche parlare con te ci avviamo alla conclusione che ti ho tenuto qua già 50 minuti la la possibilità che poi in un'eventuale elezione a parte che per me le sorprese non sono ancora finite per me c'è il 2024 è un anno che credo che rimarrà negli annuali per per tante cose per svariate cose abbiamo fronte di guerra dappertutto cose che cambiano Zelensky che l'altro giorno ha chiesto ha chiesto si fa per dire ha letto il gobbo dove c'era scritto che doveva chiedere nel prossimo summit di pace la presenza della Russia e quindi ha eseguito l'ordine che gli è stato detto chiaramente devono essere forse gli stessi che fanno scrivono il gobbo a Biden comunque nell'eventualità che riesca arrivare sano e salvo a novembre dicembre alle elezioni Donald Trump io credo che ci sarà una un purpurì di disinformazione di voti per corrispondenza di brogli contro brogli di situazioni paradossali non so che cosa siano in grado di scatenare queste persone per evitare diciamo l'inevitabile cioè non so secondo te Roberto che altre sorprese hanno nel cilindro quale quale coniglio tireranno fuori all'ultimo si chiamano sorprese proprio perché appunto devono sorprendere purtroppo ci sono un paio di ipotesi molto gravi che che sono essenzialmente un possibile attacco false flag diciamo attribuito ai russi una bomba sporca per esempio che venga fatta detonare in Europa da qualche parte attribuendole ai russi e che a questo punto creerebbe un'ondata emotiva alla quale chiunque venisse dopo leggi Trump non potrebbe appunto sottrarsi e sarebbe costretto a continuare con una certa politica cioè la guerra con la Russia è una delle possibilità ce ne possono essere anche delle delle altre diciamo che probabilmente come assicurazione sulla vita Trump ha ha nominato adesso il suo vice questo Vance che è uno di 39 anni e tra l'altro sulla sua linea e questo è pesante da un punto di vista appunto per gli avversari perché sta a dire che se fanno fuori lui va sul 39enne che ormai è stato presentato da lui alla sua benedizione se dovessero farlo lui questo qua diventa il vendicatore di Trump quindi avrebbe in più avendo 39 anni probabilmente avrebbe una una carica di rompente ancora maggiore sull'elettorato e non solo anche dopo le elezioni se qualcuno avesse l'idea di far fuori Trump sanno che arriva su un 39enne che probabilmente è anche molto più in forza e molto più sveglio molto più lucido in prospettiva quindi un problema ricordiamoci che Trump non è che sia un individuo completamente outsider dietro Trump comunque c'è l'ala cosiddetta realista del potere statunitense che poi sono l'ala un po' alla Kissinger per dire che aveva come obiettivo strategico quello del contenimento di Russia e Cina che però non significava la guerra con Russia e Cina anzi significava avere delle relazioni diciamo che non potessero mai finire in un conflitto aperto dall'altra parte ci sono i fanatici identificati spesso per i neoconservatori che sono poi un partito trasversale non è che siano tutti democratici e tutti repubblicani per esempio nei repubblicani c'è John Bolton che fa parte del schieramento e che la volta scorsa gli hanno affubbiato a Trump come cane da guardia per impedire di fargli certe cose quindi è trasversale questo c'è un'alternanza tra Falchi e Colombe che diciamo perché è esatto un gruppo che si sposta alla fine erano quelli che erano dietro a Bush costringendolo con l'11 settembre questa ormai è storia praticamente perché Bush i repubblicani non avevano intenzioni di scatenare nuove guerre di solito le guerre le hanno scatenate democratici anche se a molta sinistra non piace sentirlo Bush è stato costretto dall'11 settembre che essenzialmente fu una sorta di colpo di Stato che modificò costrinse l'amministrazione a diciamo seguire una certa linea appunto di belligeranza per motivi che abbiamo spiegato in libri e altre situazioni però poi si sono spostati più sul campo democratico adesso in campo diciamo repubblicano tende a essere prevalente la fazione dei realisti soprattutto appunto da quando c'è Trump e quindi in quel caso questo non significa che un governo Trump sarebbe un governo di pace e di idilio perché questo non avviene però almeno forse ci risparmierebbe una guerra nucleare con la Russia probabilmente sicuramente ci sono degli aspetti forse io ho sempre un po' interpretato la sua politica internazionale un po' magari faccio un accostamento che può essere un po' azzardato alla De Gaulle che se si deve scegliere tra la nazione e l'impero diciamo non sceglie l'impero sceglie la nazione che è un esame di realtà esatto però non è la sua posizione è la posizione del gruppo che sta intorno che gli consente di avere il potere però è una condizione che non è una condizione buona è una condizione realista cioè realista cioè fai un esame di realtà e vedi che nel mondo reale le cose sono diverse da quello ideale secondo te un articolo su mi sembra il Wall Street Journal uno di quelli lì Washington Post non credo comunque di poche settimane fa titolava sarebbe il caso sarebbe il caso di iniziare a trattare il mondo per quello che è anziché per quello che vorremmo che fosse e guarda che questa è chiaramente un'espressione di una parte realista del potere statunitense che si accorge della catastrofe verso la quale è diretta se continua a seguire la strada dell'autoillusione che è quella fanatica idologizizzata di questi neocons che con una sorta di trionfo la volontà di memoria di Leni Riefenstahl trionfo la realtà all'ennesima potenza sono convinti che volere potere sempre sono quelli che nel 2001 dintorni dissero che loro sono un impero e ora creano la realtà e che noi possiamo solo descrivere la realtà che loro creano cioè il divorzio con la realtà oggettiva conclamato e ammesso la realtà oggettiva non esiste più noi creiamo la realtà che vogliamo è il trionfo della volontà e come espresso al suo tempo nelle opere di Leni Riefenstahl appunto che era la cineasta dei nazisti però ha un livello che chiaramente supera tutti quelli precedenti e ecco questi sono quelli pericolosi che un'altra fazione del potere americano dice no così ci andiamo a spiaccicare contro un muro cerchiamo di inseguire i nostri interessi ma con altre guerre perché non è che siano dei pacifisti che possiamo magari anche vincere poi in realtà non le possono vincere neanche quelle e comunque diciamo che in generale gli Stati Uniti che sia contro la Russia oppure che sia in Medio Oriente oppure che sia in Asia vogliono applicare essenzialmente la strategia del caos da governare cioè non sono più in grado di governare un mondo ordinato cioè il famoso nuovo ordine mondiale campacavallo e allora cercano di cavalcare un nuovo disordine mondiale ovvero creare caos fratture guerre ovunque dove loro non possono dominare creano una situazione di ingovernabilità dove comunque possono continuare a controllare le macerie infatti la Libia così è distrutta ci sono le macerie l'Iraq è stato distrutto e loro in qualche modo controllano le macerie e questo attenzione può essere stato anche l'obiettivo dell'assassinio di Trump per creare una guerra civile negli Stati Uniti come già detto annunciata con un trailer il film cinematografico appunto di Hollywood Civil War uscito quattro mesi fa in maniera da creare anche negli Stati Uniti un caos irreversibile da poi cavalcare perché come detto non è che questi siano o si identificano come americani questi sono diciamo una categoria più elevata che se le cose vanno male in un posto loro semplicemente vanno in un altro posto quindi si spostano tranquillamente magari si comprano mezzo Sud America e vanno lì hanno la brutta caratteristica anche di vendere armi sia a una fazione che all'altra e questo fa di loro anche quello che poi abbiamo visto tutti sono dei mercenari hanno un esercito di mercenari in sostanza un esercito privato gestito da lobby private di mercenari in grandissima parte e quindi non fanno altro che vendere a un lato vendere all'altro e in quel modo guadagnano sempre comunque va dal risultato l'importante che si mantenga la situazione di guerra che poi è quello che stanno promuovendo direttamente o indirettamente lo fanno e alla fine io credo che la loro geopolitica diciamo esterna la loro politica estera alla fine si rifletta inevitabilmente anche nella politica interna e questo probabilmente è la cosa che distingue forse Trump da altri che sono comunque gruppi di potere uno è un gruppo di potere diciamo da una parte uno è un altro gruppo di potere con ideologie ideali come tu hai spiegato molto bene differenti che però comunque diciamo forse si comportano diversamente su certe dinamiche esterne su certe visioni più reali e meno percepite però insomma non è che per questo voglio dire ma infatti volevo evitare appunto di cadere nel mito di un eroe contro un cattivo ecco sono solo diverse espressioni del potere di diverse fazioni del potere e poi quando ecco si parla del fatto che per sé vendono armi a tutti sembra che lo facciano per i soldi i soldi questa gente li inventa quindi non è che lo fanno per i soldi i soldi sono solo uno strumento di inventandone ne inventano a trilione fanno quello che vogliono e quindi hanno la possibilità di mettere in ginocchio intere nazioni di qua di là quindi diciamo il guadagno dell'industria delle armi è come del fatto che il maiale non si butta più niente si guadagna anche lì ma è grasso che cola non è il fuoco dei loro interessi delle loro attività che vanno al di là del denaro vanno sul potere vanno sul controllo vanno sul dominio che sono categorie che noi che viviamo nel mondo di sotto rispetto a quello che loro considerano il mondo degli eletti non riusciamo neanche a comprendere perché noi siamo alle prese con dei problemi diversi questi qui invece si sentono come esostiti nel caso del petrol dollaro come ha funzionato il petrolio era protezione militare cioè il dollaro è uno strumento di guerra è un'arma di dominio è un'arma di dominio che praticamente imponeva una tassa a qualsiasi cittadino del mondo qualsiasi cosa consumasse perché alla fine se comprata attraverso il commercio internazionale doveva venire pagata in dollari che dovevano venire acquistati gli americani che li creavano schioccando le dita ma in cambio volevano dei prodotti veri quindi tutto il famoso benessere americano è tutto di rapina cioè praticamente di estorsione o rapina o estorsione o entrambi estorsione nel senso vuoi comprarti il petrolio dall'Arabia compra i miei dollari se no agli arabi non te lo vendono e così via adesso questo Klaus Schwab nel suo libro che scrive che questa cosa qui perché parla proprio del privilegio del dollaro che è stato concesso al dollaro perché lui ha un capitolo dove parla di dedollarizzazione ed è molto divertente in tedesco si dice lustik cioè fa ridere detto da lui che dica che è un privilegio che è stato concesso è proprio la manipolazione estrema del narcisista che dà la colpa agli altri non sia stata colpa vostra glielo avete concesso di farlo e quindi loro si sono presi un privilegio che è stato concesso cioè quello del petrol dollaro di commerciare di incassare ma questo perché egli evidentemente si pone al di sopra dell'impero al di sopra del dollaro al di sopra di quelle misere questioni diciamo pur imperiali e qui parliamo proprio con quello che tu dicevi della trasversalità di queste persone che non gli frega nulla li entriamo nel novero dei cosiddetti padroni universali come li chiamava Giulietto Chiesa che erano questi individui che controllavano non tanto del denaro ma delle percentuali di tutto quello che esiste che sono difficili come concetti da spiegarsi però chi li abbia ricercati non fatica poi a trovare conferme basti pensare che ci sono dei giganti come BlackRock Vanguard State Street eccetera che ognuno di questi manneggia denaro che non è chiaro di chi sia però possiamo ben immaginarcelo che equivale al prodotto nazionale lordo di tantissime nazioni messe insieme quindi di fatto sono i veri padroni del mondo ecco no anche se non li vediamo in faccia perché molto saggiamente si nascondono dietro tutte questi agglomerati sigle e diciamo delle cortine fumogene che possono evitare qualcuno che si incazzi molto di andargli a trovare e fargli quello che l'umanità sempre fatto a chi si approfittava troppo degli altri va bene grazie Roberto per questa chiacchierata ti ho tenuto qua è stato un piacere è stato un piacere anche per me saluto tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento ritroverete questo video sul mio canale e anche sul canale di Roberto sicuramente che lo ricaricherà spero volentieri si si volentieri e ci diamo appuntamento magari a un'altra chiacchierata chissà più avanti grazie mille e un saluto a tutti grazie a te un saluto a tutti